Quando io ho iniziato non è che c'erano delle linee da seguire, degli allenamenti specifici per il motociclismo. Stiamo cercando di fare un percorso per i giovani nostri talenti e cercare di fare diventare i nostri piloti dei campioni del mondo. Quello che mi piace di più è rivedere le gare insieme a loro. Cerchiamo di rivedere tutto dall'inizio alla fine per cercare di capire come migliorare la partenza, qualche errore che hanno commesso nella battaglia. La freschezza di stare con questi ragazzini ti tiene giovane. Ho capito durante gli anni che comunque allenarmi con loro è meglio anche per me. Ci alleniamo tutti i giorni, 24 ore, 7 giorni alla settimana di motorsport. Sono Valentino Rossi e non posso stop. Grazie. 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 Grazie.